Eccoci qua cari amici di Orizzonte Scuola TV, oggi uno speciale particolare di A2x2, lo facciamo con Gianna Fracassi, la nuova segretaria generale della FLC-CGL, succede a Francesco Sinopoli che è stato a guida del sindacato confederale fino al 2023 per sei anni. Cerchiamo dunque di fare il punto, è la prima intervista che rilascia il nuovo segretario della FLC-CGL, faremo il punto dal rinnovo del contratto fino al nuovo reclutamento, facciamo appunto una disamina a 360 gradi dei problemi che riguardano il mondo della scuola, siamo alle prese appunto con le trattative per il rinnovo del contratto, la parte economica si è conclusa a novembre ma ancora manca quella normativa. Ma c'è anche la questione riguardante il decreto PA, il reclutamento, i concorsi, le emissioni ruolo, quindi tanta carne al fuoco. Do dunque il benvenuto alla segretaria generale della FLC-CGL, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, segretario appunto, prima donna segretario della FLC-CGL, prima di passare alle tematiche riguardanti la scuola, mi conceda appunto un vero appunto anche personale. Ecco, quali sono le sensazioni per un incarico così prestigioso alla guida appunto di un sindacato storico come la CGL? Ma prima di tutto vi ringrazio per questa opportunità. Quali sono le sensazioni? Le dico, io sono onorata direi, sono onorata di avere questo incarico, così come sono guardi, è stata onorata di tutti gli incarichi che la CGL mi ha conferito, mi ha dato l'opportunità di svolgere in questi anni. Io ho un'esperienza in segreteria confederale, sono nove anni che appunto ho lavoro nella CGL nazionale, nella segreteria confederale, sono stata onoratissima di essere stata per cinque anni vice segretario generale della CGL e adesso tornare, perché per me è un ritorno alla FLC, perché appunto una parte della mia esperienza nazionale nasce dal FLC nella segreteria nazionale. Ecco, per me questo mi dà un misto di felicità, ma soprattutto di voglia di rimettermi in campo su un terreno che per me è familiare, perché è il terreno anche della mia esperienza professionale, perché io sono un insegnante, quindi diciamo che con umiltà, perché ci tengo a dirlo, questa organizzazione, che è una straordinaria organizzazione in cui tutti noi militiamo, ci insegna in primo luogo di essere molto umili nel momento in cui si hanno anche grandi opportunità, grandi percorsi, importanti percorsi, con umiltà quindi mi avvio ad affrontare questo incarico. In una fase del paese è molto complicata, questo ne ho alla piena consapevolezza. Ecco appunto, parliamo, parlava di fase complicata nel paese, il ministro dell'istruzione del merito, Giuseppe Valditare, espressione del governo Meloni, da ottobre in carica. Le chiedo un primo giudizio sull'attività del ministro, non è passato nemmeno un anno, ma comunque il ministro non possiamo dirgli che è passato sotto traccia il suo operato, non sono mancate delle dichiarazioni e anche delle opere fuori dalle righe. Guardi, il ministro ha colto anche degli spazi che erano già presenti, penso per esempio al contratto, tanto per ricordare un tema molto importante di cui forse parleremo durante questa intervista, ovviamente ha dato l'input su risorse che dobbiamo ricordare erano state collocate dai precedenti governi. È vero che sono stati rimessi in campo un po' di risorse, ma sono risorse temporanee, è vero che ha definalizzato 220 milioni di Euro, però di nuovo sono risorse che esistevano. Quindi da questo punto di vista, così come anche il reclutamento, come sappiamo bene c'è una copertura già presente nel nostro sistema dei conti, per cui lui ha agito, o perlomeno ha affermato di voler agire per fare molte emissioni di ruolo. Quindi da un lato ha colto opportunamente degli spazi che già c'erano ed erano presenti, e la domanda è perché non lo si è fatto prima. Ecco, questa è una domanda che ci verrebbe da fare. Dall'altro però ha piantato una serie di bandiere ideologiche che noi non condividiamo, io penso dalla questione del merito fino al tema delle gabbie salariali. Insomma, queste affermazioni io credo si scontrino con la necessità invece che a questo Paese e i lavoratori e le lavoratrici della scuola di avere non soltanto salari più elevati, quindi come dire, evitare addirittura differenziazioni, ma soprattutto di rimettere al centro dell'agenda politica il sistema di istruzione e formazione. Su questo ancora io credo che lo dobbiamo vedere alla prova, la dico così, lo dobbiamo vedere alla prova delle prossime interventi economici, perché sappiamo già tutti con chiarezza che sul versante del sistema di istruzione, dei sistemi in generale del welfare del nostro Paese potrebbe esserci anche una prospettiva di riduzione. Segretario, parliamo appunto del contratto. Manca ancora la firma, perché c'è la parte economica, c'è stato questo accordo, ma manca la firma sulla parte normativa. Ed è il contratto 18-21 e praticamente sta per scadere il 21-24 in pratica. Diciamo che è un po' una situazione dall'esterno definirla imbarazzante, dire poco. Si va a chiudere un contratto e poi praticamente si iniziano le trattative per un altro. Ma le chiedo, perché anche il Presidente Nadeo si è espresso su questo e ha auspicato una chiusura entro giugno, ma davvero c'è la volontà di chiudere a breve questo contratto? Che cosa manca per chiudere a breve? Almeno per voi, per le FLC. Guardi, per noi c'è l'assoluta volontà di chiudere il contratto a giugno. Ci sono alcuni elementi che riguardano sia il comparto scuola, che penso ad alcuni nodi che non si sono ancora sciolti per università di ricerca, che riguardano la destinazione delle risorse, piuttosto il fatto che, penso per il comparto ricerca, che mancano risorse per gli enti non vigilati, quindi abbiamo necessità che vi sia un intervento aggiuntivo, comunque sia, si trova una soluzione. Per la parte scuola stiamo discutendo dei contenuti normativi del contratto, io credo che i nodi che ci sono siano tutti risolvibili. Ovviamente ci vuole la volontà di tutti. Per quanto ci riguarda, la volontà c'è, anche perché, come ha giustamente ricordato, noi abbiamo una responsabilità nei confronti di chi rappresentiamo. Cioè abbiamo la responsabilità immediatamente, dopo la chiusura di questo contratto, di chiedere risorse e quindi affrontare una stagione contrattuale che, dobbiamo dirlo, è la stagione contrattuale dell'inflazione alta, dei picchi che abbiamo conosciuto, per cui il nuovo contratto dovrà rispondere anche a questo, a questo terreno, al terreno salariale, alle richieste dei lavoratori e delle lavoratrici, perché è evidente che, diciamo, stiamo discutendo di due fasi, di due terrenalità diverse. Poi se glielo devo, proprio dire, possiamo dirlo, che la triennalità, così come è stata strutturata a suo tempo dal, diciamo, dagli interventi, a partire da quello del Ministro Brunetta, non funziona, perché la triennalità, in questo modo, impedisce la riconquista, la conquista sul versante, soprattutto salariale, di un adeguamento che sia coerente con l'aumento del costo della vita. Questo è un tema più generale, capisco che non è questo il tema della nostra discussione, però io penso che bisogna riaprirla, questa discussione. Cioè, il rinnovo del contratto dei pubblici non può essere una gentile concessione dei governi di turno, pro tempore, ci deve essere un meccanismo che renda esigibile e concreta questa possibilità. aggiungo solo una cosa, uno degli obiettivi del prossimo contratto sarà la piena riconquista di tutte le agibilità contrattuali che nel corso di questi anni sono state parzialmente attraverso interventi di rilegificazione ridotte. Questo è un mio impegno. Segretario, però a questo punto le chiedo, perché l'Aran e Nadeo su questo sono stati abbastanza chiari, probabilmente la lentezza della chiusura deriva anche dalla materia contrattuale nel senso abbiamo un contratto che riguarda istruzione e ricerca. L'Aran auspica appunto una scissione, cioè dividere i due contratti, cioè magari università e ricerca da una parte e istruzione dall'altra. Lei su questo cosa ne pensa? Guardi, premesso che questa è una discussione che non possiamo fare adesso, perché noi ci confrontiamo con un quadro che è già stato delineato così, quindi le ripeto, in prospettiva a mio parere sia sulla triennalità che sui comparti forse è bene riaprire una discussione. Grazie, segretario. Parliamo delle assunzioni, il Ministro anche su questo ha annunciato, ha fatto degli annunci molto rilevanti, 100 mila assunzioni nei prossimi due anni, alcune anche fuori da quelle previste dal PNRR, al di là degli annunci ci sono dei fatti concreti ecco voi cosa ospitate e soprattutto come reputate questo annuncio da parte del Ministro? Vero o diciamo solo annuncio? Guardi, se è vero lo misureremo molto rapidamente come lei sa, perché è chiaro che a qualunque annuncio devono seguire i fatti, per quanto ci riguarda sono anche poche quelle assunzioni, perché noi sappiamo bene qual è il meccanismo che nel sistema scolastico determina una sorta di bolla di precariato permanente e io credo che sia arrivato anche il tempo di affrontarlo. Sicuramente un primo step dovrà essere collocato nella legge di bilancio immagino, ma come le dicevo prima la legge di bilancio dovrà portare il peso dei tanti impegni di questo governo. Per quanto ci riguarda la nostra organizzazione questo terreno è uno dei terreni più importanti io penso. Noi dobbiamo chiedere la piena chiusura del tema precariato permanente nel sistema scolastico. Non è accettabile che un datore di lavoro come è lo Stato in questo caso determini la condizione di alcune migliaia anzi decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici in una incertezza permanente rispetto alle loro condizioni. Quindi bene se si fanno queste assunzioni segnalo anche molto sommessamente che nei prossimi anni è prevista una grande fuoriuscita di personale in generale nel pubblico impiego e nella scuola anche. Quindi questo tema come dire è un tema che è legato anche a un turnover che è molto ampio. Noi vorremmo andare oltre il turnover e quindi chiedere un piano di assunzione straordinario nel sistema scolastico. Questo lo dico non soltanto per garantire il precariato i precari della scuola ma per garantire soprattutto la qualità del sistema di istruzione. Segretario a proposito di incertezza tanti docenti quelli soprattutto con i vincoli vivono una situazione di incertezza ecco c'è una deroga ai vincoli ma solo per un anno qual è la strada secondo lei da percorrere per eliminare definitivamente il problema? Cancellare quella norma punto cancellare la norma che ha determinato e sta determinando in maniera un po' farzesca mi concentra di dirlo perché si blocca la mobilità e poi tutti gli anni si trovano le deroghe cancelliamola io lo dico così cioè è frutto anche di un'impostazione ideologica guardi quella norma come non darle torto in effetti docenti ma noi dobbiamo anche la scuola non è fatta solo da docenti ma è fatta anche soprattutto dal personale ausiliario tecnico amministrativo ecco più personale per la sicurezza della scuola voi comunque avete protestato perché ci sono stati casi uno l'ultimo in provincia di Firenze no? degli alunni che sono scappati da scuola avete chiesto più personale scolastico più ATA più custodi ecco è una questione quella del personale ATA da affrontare perché manca e si lega anche alla questione dell'organico covid il famoso ex organico covid ma guardi anche su questo la dico così è chiaro che il personale ausiliario tecnico amministrativo che fa parte della comunità scolastica della comunità educante è un elemento fondamentale non solo per la sicurezza sicuramente per la sicurezza ma non solo per la sicurezza perché oggi sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi sia per le necessità tecniche e sia soprattutto per una qualità dell'accoglienza e della scuola è necessario ampliare questo organico è una richiesta storica della nostra organizzazione però dobbiamo ricordare anche che in questo paese perché abbiamo la memoria corta non ci ricordiamo del fatto che proprio per quanto riguarda il personale ATA e oltre al personale docente si è prodotto come dire un taglio epocale a suo tempo noi ancora come dire noi ancora scontiamo gli effetti negativi di quell'impostazione allora dobbiamo capire che come dire la coperta abbiamo già raschiato il barile per il personale della scuola è il momento di rimettere in campo nuove risorse perché non stiamo più parlando della scuola di 20 o 30 anni fa cioè mi sembra che a volte soprattutto il decisore politico ha un'idea la scuola come dire un po' d'antan da un lato è il salvadanaio per cui lì si può sempre come dire intervenire per fare ulteriori tagli dall'altro poi ci si riempie la bocca nel momento in cui accadono cose negative come quelle che ha detto della necessità dell'importanza del sistema di istruzione io credo che tutte le affermazioni debbano essere misurate concretamente coi fatti sugli organici ATA va fatta secondo noi una battaglia molto forte perché è vero che mancano le risorse cioè oltre alla questione organico covid alle mancate conferme noi abbiamo la necessità di ridare da questo punto di vista qualità e dignità al lavoro nella scuola e passa anche dalle presenze delle persone avere concretamente le risorse per poter far fronte a tutte le necessità ultima domanda segretario riguarda un tema a mio modo di vedere importante che dovrebbe essere al centro dell'agenda di ogni governo è quello della denatalità in Italia si fanno meno figli e questo avrà un impatto anche sulla scuola oggi riguarda la scuola primaria ma nel lungo periodo riguarderà credo soprattutto la scuola la scuola secondaria ci saranno anche meno meno docenti evidentemente come si può evidentemente qual è la posizione dell'FLCCGL su questo argomento credo che dovrebbe essere una battaglia di tutti non solo del governo ma anche dei sindacati trovare una soluzione a questo allora lei mi sta facendo una domanda complessa provo a essere ovviamente sintetica ma stiamo parlando di una crisi sistemica cioè il tema della denatalità in questo paese non lo scopriamo né ieri né la scorsa settimana è un tema ormai una crisi strutturale che ha effetti plurimi nella scuola nel lavoro in generale sul versante previdenziale cioè davvero siamo di fronte a una delle grandi crisi delle grandi crisi allora il punto qual è? come si affronta una crisi sistemica? si affronta con una pluralità di interventi cioè per contrastare la denatalità le dico non bastano le detrazioni come qualche settimana fa abbiamo sentito dire non bastano i fringe benefit che sono stati inseriti nel decreto lavoro servono prima di tutto aumentare l'occupazione femminile perché è direttamente correlato il tema demografico con l'occupazione femminile e sappiamo come stiamo messi nel nostro paese due bisogna rafforzare tutti i servizi a partire dai servizi educativi quindi un aumento degli asili un obiettivo anche del piano nazionale di ripresa e resilienza ma questo magari ne parliamo un'altra volta occorre rafforzare il sistema di istruzione a partire dal tempo scuola è un elemento fondamentale per dare anche una risposta sul insomma abbiamo una serie di strumenti l'unica cosa che non è accettabile ti la dico così è che si usi la denatalità e non è un argomento nuovo guardi non è un argomento nuovo si usi la denatalità per fare ulteriori tagli nel sistema di istruzione e non si colga invece questa possibilità per qualificare nel breve periodo il sistema di istruzione cioè quello che intendo dire è che se si pensa di fare il solito ragionamento ragioneristico di riduzione degli organici perché in prospettiva sappiamo benissimo che abbiamo un calo demografico e non invece si prova a costruire le condizioni per avere più qualità più tempo scuola insomma le cose che sappiamo molto bene che possono dare possono essere significative per il nostro sistema di istruzione noi non ci stiamo cioè non stiamo affrontando un bel niente stiamo semplicemente approfittando la dico così per fare ulteriori tagli su questo noi non ci stiamo grazie allora grazie mille a Gianna Fracassi nuovo segretario generale della FLCCGL grazie allora ci rivediamo presto per affrontare tutti altri temi che non abbiamo affrontato ma ce ne saranno sicuramente altre occasioni su Orizzonte Scuola TV grazie a presto grazie